Buonasera a tutti, sono Luca Bassanese e sono qui per invitarvi a sostenere il progetto Il Sole sulla Pelle, un video documentario che racconta una storia d'Italia, una storia che è anche la nostra storia, una storia che non può e non deve essere dimenticata. Sostenete anche voi il documentario Il Sole sulla Pelle.